È morto 86 anni dopo una lunga malattia padre Quirino Salomone, frate Francescano, ordinato sacerdote nel 1963 e originario di Chieti, ma qui l'anno d'adozione. A Chieti, nella casa della nipote, è morto. Personaggio carismatico e molto amato, ha dedicato la sua vita agli ultimi con la fraterna Tau, la mensa dei poveri di Celestino, il movimento celestiniano. Lascia un'eredità pesante e importante alla città padre Quirino, uno dei fondatori della perdonanza celestiniana moderna in senso spirituale e come non citare la sua lunga esperienza come rettore della Basilica di Santa Mera di Colle Maggio per ben 22 anni, dal 77 al 99, giornalista arguto, ha diretto anche il periodico La Perdonanza. Le reazioni alla sua scomparsa sono state tantissime, dal presidente della regione Marsilio al sindaco Bionti, davvero tante persone, anche comuni, che lo hanno voluto ricordare attraverso i social. Domani alle 17 la sua chiesa, quella nuova di Piazza Darmi, lo accoglierà per la veglia, mentre il funerale si terrà il giorno 7 alle 10.30, sempre nella chiesa di Piazza Darmi. La questione è grande, un grande personaggio come padre Quirino, che ha creato cultura, fraternità, opere all'Aquila e non solo all'Aquila, ci lascia sconforti tanti nel nostro dolore, ma anche comunque ci riempie di responsabilità. Cioè la sua eredità è grande, è pesante, ma va comunque portata avanti nel migliore dei modi, così come eravamo prima, ma con gioia, con affetto, perché comunque padre Quirino ci proteggerà da lassù e sarà sempre la nostra guida e sarà sempre i nostri pensieri. È stato un grande per l'Aquila e per l'Abruzzo.